La data è quella del 22 marzo. 30 giorni di tempo e per 45 dei 150 dipendenti della Ilve di Campo d'Arsego, azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cottura, forni e piani, scatterà la procedura di mobilità. A muovere la proprietà su questa strada la crisi del modello di punta, un piano cottura del valore di quasi 10.000 euro al lavoro i sindacati che sperano di riuscire a mediare soluzioni meno dolorose per i dipendenti. Sul tavolo, tra le altre proposte, anche un piano di contratti part-time. Le trattative restano aperte.